Eccomi, ciao ragazzi, come va? Spero tutto bene. Purtroppo le vacanze sono finite, spero vi siete rigenerati anche voi, rilassati e ricaricati, perché rinizia il corso che tengo di Wing Chun Kung Fu presso il Palasesto di Sesto San Giovanni. Il corso inizia martedì 10 alle 19.30, ovviamente ci sarà la lezione gratuita, se riuscite a venire un pochino prima verso le 19.10 così facciamo anche due chiacchiere. Potete ovviamente allenarvi insieme a me, scoprire cosa significa realmente praticare un'arte marziale, i benefici che dà, la sicurezza che dà e l'inalzamento dell'autostima, poi ovviamente la difesa personale e tutto quello che c'è dietro a un'arte marziale. La prima lezione ovviamente è gratuita e quindi niente, si rinizia. Vi aspetto martedì 10 alle 19.10 presso il Palasesto di Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Ciao ragazzi!